C'è solo sesso e violenza in tv, quei cari e bei programmi ormai non ci so più. Che fine hanno fatto i vecchi valori su cui potevi contare. La famiglia è un'evento di i, le programmi grandi e l'appassionati, pure in sua vita è più out che i. La famiglia è un'evento di i.